Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono passati un po' di spinelli dalla prima parte di questo video. Io ci provo con tutto me stesso a farvi vedere i miei vlog, i posti dove vado, i posti figli, ristoranti, cibo... Ma la verità è che siete tutti dei fattoni del ca... Quindi, oggi esploreremo ancora una volta nuove dimensioni. Ma lo faremo con classe. Perché oggi vi spiegherò come rollare la vostra happiness, perché nel frattempo siamo diventati international, a bandiera. Vi ricordo di seguirmi sul mio Instagram, Damiano Mari, mi raccomando. Link in descrizione. Questo sarà un video ASMR, come le tiktoker in live. Avremo bisogno di... Cartine. Filtri. Ci pensate mai che lo Stato monopolizza un pezzo di carta? Brutti coglioni. Mezza siga. Piattino, cocca, cocchino, cocco. Se invece siete poveri come la merda, la vostra mano o un tavolo va benissimo. Quelli di mia talla lo fanno cagare. Infine. Happiness. Tranquilli, amici sbirri, è quella light presa al tabacchino qui sotto. Let's go. Happiness. La mettiamo dentro al grinder. Filtro. L'importante è che sia fatto bene. La cartina deve essere regirata. Deve andare sotto. Chiamatemi maestro. Una volta che la mista sarà qui sopra, filtro, altrimenti siete marocchini, la colla a questo punto ve la ritrovate sul pollice opponibile che vi ha donato voi, come alle scimmie. Soltanto che voi, per vostra sfortuna, non potete stare tutto il giorno a levarvi le pulci. Il rumore deve essere questo. La girate come se fosse normale. Ve li trovate in questo punto. Ok? Quando è così, voi dovete dare... Una volta fatto questo, andate a mettere sopra la cartina. A sto punto c'è... Chi la brucia? Chi la brucia è un coglione. Sincronizzate il battito con il vostro cuore. Mi è così veloce perché mi sta avvenendo un infarto. Ed ecco qui. Una perfetta happiness rollata a bandiera. Caaaa!